Nei capoluoghi di provincia abruzzesi sono scomparse nel giro di nove anni circa 300 attività commerciali e quanto emerge dal report del Centro Studi Nazionale di Confcommercio che ha tracciato l'evoluzione del tessuto economico nell'ultimo decennio. Teramo è il capoluogo che registra il dato più negativo. Qui ha chiuso più di un negozio al dettaglio su quattro. Segue Chieti che registra un meno 14,3% di attività e poi Pescara e L'Aquila dove hanno chiuso i battenti rispettivamente l'8,3% e il 6,3% dei negozi. Il dato è coerente con quanto successo nel resto d'Italia. Confcommercio infatti ha preso in esame 120 comuni di medie e grandi dimensioni per un totale di 921.000 attività di cui 467.000 riguardano il commercio al dettaglio in sede fissa. Ciò che emerge dallo studio è che la crisi è a prescindere dal Covid. Negli ultimi nove anni in Italia hanno chiuso 85.000 negozi di cui solo 4.500 durante la pandemia. In controtendenza però alcune particolari categorie legate al settore del turismo come le attività di ristorazione legate allo street food e al take away o tipologie di alloggio come i bed and breakfast che hanno registrato un trend positivo anche durante l'emergenza sanitaria. Riguardo la ristorazione, l'Abruzzo è in linea col resto del paese. Le attività sono aumentate ma con differenze sostanziali rispetto alla geografia delle città. Se nei centri storici il dato in positivo è solo dell'1,74%, nelle periferie è di circa il 16%. E mentre nei soborghi le attività ricettive abruzzesi sono cresciute di oltre l'8%, alloggiare nei centri storici è sempre più difficile a differenza di quanto accade nel resto d'Italia. Nel cuore dei capoluoghi abruzzesi è sparita un'attività ricettiva su quattro. Il report, insomma, fotografa un decennio di lenta desertificazione dei centri storici abruzzesi. C'è urgenza di politiche attive e provvedimenti concreti, fanno sapere da Confcommercio Abruzzo, ma anche di un partenariato istituzionale e socio-economico per mettere in campo strategie condivise che permettano di contrastare lo spopolamento, utilizzando bene i fondi a disposizione, dalle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a quelle della politica di coesione 2021-2027.